Ciao a tutti, essere generosi nelle relazioni, nella seduzione, positiva o negativa, è un bene o un male? Allora, questa è una domanda che mi è stata posta, dobbiamo fare un discorso un po' generale. Allora, essere generosi e la generosità in generale è una delle virtù, una delle virtù che combatte il veleno mentale dell'attaccamento e dell'egoismo ed è per questo che molte persone confondono la generosità con... in realtà molte persone sono generose ma questa generosità la fanno per attaccamento e allora è una falsa generosità, cioè essere generosi, la generosità, il contrario dell'attaccamento è io ti do qualcosa, quindi la generosità può essere sia materiale, ti do qualcosa di materiale, oppure ti do qualcosa in termini affettivi, insomma, in termini, la generosità più alta è quella di donare il Dharma, donare gli insegnamenti spirituali, ma donare, quindi la generosità significa io ti do qualcosa ma non per ricevere qualcosa altro in cambio, ti do qualcosa e basta, perché se io ti do qualcosa, ti faccio un regalo per dire ma spero che tu mi faccia altrettanto un regalo o un regalo anche magari più costoso oppure io ti do qualcosa a te e tu, come dire, e mi aspetto da te una stessa cosa, ti do affetto e mi aspetto di ricevere affetto, quella non è più generosità, quella è semplicemente una manifestazione dell'attaccamento, cioè io ti do qualcosa sperando di ricevere qualcos'altro e ci resto male se non ricevo qualcos'altro, questo è il discorso, no? Questa non è generosità, è semplicemente un attaccamento che si manifesta mascherato, diciamo, edulcorato da generosità, perché generosità, la vera generosità non prevede aspettative, non aspettative, ok? Quindi se una persona mi dice io sono generosa e non ricevo niente, allora tu non sei generosa, tu dai delle cose sperando di poter ricevere qualcosa in cambio, quella non è generosità, è una manifestazione di attaccamento. Detto questo, da un punto di vista, diciamo, tecnico, come dire, di strategia di seduzione, seduzione, se uno vuole utilizzare la strategia di seduzione, quindi bisogna uscire dagli schemi, diciamo, della crescita spirituale, non si tratta di schema spirituale, si tratta di interagire con una persona, bisogna stimolare il desiderio, ad esempio, quindi mostrarsi troppo disponibili, fare regali, fare cose, non stimola il desiderio in una persona, anche se tu lo fai per attaccamento, perché speri di ricevere qualcosa in cambio, non è una strategia giusta. O sei generosa a prescindere, quindi ti do qualcosa, ma non mi aspetto nulla in cambio, lo faccio per una mia indole, e non lo faccio solo con le persone che mi interessano, lo faccio con tutti, ovviamente, anche quelli che non mi interessano da un punto di vista sentimentale, affettivo, e questo è un discorso, diciamo, di crescita spirituale. Nell'altro discorso, invece, no, non funziona, non funziona, perché se tu, come dire, dai presenza a una persona e non ricevi nulla in cambio, non devi continuare a dare presenza, se io ti mando un messaggio e tu non mi rispondi, io non ti mando un altro messaggio. Aspetto finché tu non me lo mandi, se non me lo mandi, amen, chiuso, vado avanti con un'altra situazione. Questo è per dire che a livello strategico, è come dire, se uno va dal panettiere e gli dà un euro, si aspetta che gli dia una pagnotta in cambio. Se il panettiere non ti dà la pagnotta, non è che il giorno dopo vai a portargli un altro euro e lui continua a non darti i pagnotte. E questo è quello che succede. Quindi nelle relazioni sentimentali, in generale, a livello strategico, dobbiamo stimolare, diciamo, dobbiamo stimolare desiderio e quindi necessariamente in maniera minoritaria o maggioritaria, comunque dobbiamo vincolare il possesso, quindi non dare, non dare, insomma. Bene, per questo video è tutto, spero di aver chiarito questo tema e seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, Massimo Taramasco, iscrivetevi al mio canale YouTube e anche al mio nuovo canale, felicità e benessere, sempre su YouTube, di cui vi posterò il link in descrizione. Ciao a tutti!